buongiorno vi dico subito che oggi voglio fare dei semplici paragoni per il semplice motivo che spessissimo voi mi chiedete dada ma che differenza c'è tra questo e questo prodotto e credo che la cosa migliore sia farvelo vedere continuiamo il discorso della colorazione della pasta di zucchero quindi la prima una delle domande più frequenti che mi viene fatta è che differenza c'è tra un colore a base alcol e un colore a base acqua ok a parte ovviamente il prezzo allora il prezzo da che la differenza grossa di prezzo è dovuta a un fattore che in uno c'è l'acqua e nell'altro c'è l'alcol l'alcol a univa al 22 per cento quindi calcolate voi i costi ovviamente vanno a lievitare se voi andate a comprare al supermercato una bottiglia d'acqua o andate a comprare al supermercato una bottiglia di alcol a 90 gradi per fare un liquore ovviamente non lo pagate la stessa identica cifra lo stesso vale per i colori quindi devo fare una precisazione che ritengo fondamentale io non ho mai sostenuto e non sostengo assolutamente che i colori a base alcol siano migliori rispetto ai colori a base acqua assolutamente no ok ci tengo a sottolinearlo ci sono colori a base acqua che sono prodotti formidabili ma come in tutte le cose ok le performance che noi ci possiamo aspettare da un colore a base acqua non sono le stesse che ci possiamo aspettare da un colore a base alcol è esattamente lo stesso discorso che dire io prendo la pasta di zucchero da copertura e mi aspetto che abbia la stessa la stessa resa di una pasta da modeling o di una gun paste per fiori non è così promesso che cosa simona è difficile che si asciughi il colorante a base acqua intendi dire il colorante a base acqua ovviamente essendo a base acqua ha più difficoltà a come si dice a ad asciugare indubbiamente perché è a base acqua quindi va anche ad assorbirsi la pasta di zucchero l'umidità della pasta di zucchero praticamente il colorante a base acqua e la pasta di zucchero si passano l'umidità tra di loro ed è e ci mette molto tempo ad asciugare è chiaro che se voi la state lavorando su una dammi di polistirolo è un discorso ma se state lavorando su una torta vera che sotto ha un'umidità sua e che 99 su 100 dovete mettere in frigorifero usare un colorante a base acqua significa che quando voi tirate fuori la torta dal frigorifero la vostra torta è bagnata quindi il rischio addirittura è che goccioli via il colore con i coloranti a base alcol il rischio è nettamente minore perché l'alcol evapora immediatamente il colore si fissa quando tiriamo fuori la torta dal frigorifero che cosa succede succede che la pasta di zucchero ovviamente ha il suo shock termico ma una volta lasciata diciamo così una volta che la lasciamo regolarizzarsi ora non mi viene il il termine ok il colore non si muove carla mi fai una domanda che casca a pennello io mi sono preparata oggi ovviamente il nostro colore e ho preso un colorante a base acqua ok è un colorante di cui ovviamente non vi dirò la marca vi dico subito che ritengo che sia una delle marche migliori che ci siano ad oggi in commercio ok quindi vi vi voglio questo lo voglio dire però le prestazioni sono sicuramente diverse quindi io cosa faccio prendo il colore a base acqua lo inserisco nell'aerografo metto via colore a base acqua perché sennò sicuro come loro che faccio un guaio accendo l'aerografo e vado andiamo ad aerografare come vedete il colore ovviamente sul bianco prende molto bene come vi dicevo sto utilizzando un'ottima marca di colorante a base a base acqua ora andiamo sulla pasta di zucchero nera come vedete la pasta di zucchero continua ovviamente a rimanere nera non viene coperta dal colore io ci posso dare quanto mi pare ma la pasta di zucchero continua a rimanere nera ok andiamo sul cioccolato ora aspettate fatemi prendere un altro pezzo di cioccolato così ci capiamo perché sennò lì poi ci sono troppi pacciughi ok vedete che non è che non ci do eh ragazzi ci sto dando ci sto dando parecchio che cosa abbiamo fatto abbiamo provato un colorante a base acqua su pasta di zucchero bianca su pasta di zucchero nera e su cioccolato adesso facciamo la stessa cosa col colorante a base a base alcol tutto una grossa differenza la possiamo vedere subito ciao maria rosa la possiamo vedere subito guardate questo è trasparente il nostro il nostro colore a base alcol non è trasparente ok quindi la differenza già è visiva andiamo a vedere come reagisce ok quindi pasta di zucchero bianca ovviamente si colora anche perché sennò pasta di zucchero nera vi faccio vedere adesso ve lo alzo ecco qua andiamo a coprire la pasta di zucchero nera andiamo sul cioccolato aspettate che ve lo faccio vedere abbiamo colorato il cioccolato ciao berenice quindi la differenza qual è che un colorante a base alcol è un colorante che grazie appunto al fatto che c'è l'alcol l'alcol evapora immediatamente e il colore si fissa sulla sulla superficie vi faccio vedere una cosa il bianco ciao liliana ciao carissima come stai liliana poverina mi ha sopportato in camera a milano abbiamo suddiviso abbiamo appunto diviso la camera io lei e giusi hanno avuto non so la sfortuna di di sopportarmi in camera da letto allora vi volevo far vedere la Anna si è la Anna Rosa si è innamorata del bianco allora aspettate che devo aprirlo ve lo dico subito eh niente fiamme oggi per quelle chiamiamo Simone allora solita pasta di zucchero nera facciamo un paio di spruzzate fuori guardate questo è il bianco ok questo è il bianco per aerografo a base acqua scusate a base alcol ok base alcol Barbara gli aerografi esistono di tantissimi prezzi dipende da che cosa ci dovete fare ora dal mio punto di vista patto che non siate una pasticceria che lavora eh al 90 per cento con l'aerografo non ha senso che andiate a spendere due trecento euro per un aerografo ok però dipende da che eh da che cosa dovete da che cosa ci dovete fare questo è il nostro bianco per aerografo sul cioccolato come vedete è bianco cioè il colorante per aerografo a base alcol è in grado di coprire i colori scuri sottostanti ok possiamo ora è finito ok poi potete dare più o meno mani non è quello il il discorso va bene è che un colore a base acqua non è in grado di andare a coprire il colore scuro sottostante ma questo non vuol dire che i colori a base acqua non siano validi ok cioè per favore perché poi non voglio che sembri che sto dicendo una cosa che non penso ovviamente come in tutte le cose ci sono prodotti di qualità e prodotti di qualità più scadente ma anche all'interno ma questo in tutte le cose però ci sono coloranti a base acqua che sono fantastici ok quello ad esempio che vi ho fatto vedere io questo qua ad esempio non solo è un colorante a base acqua è un colorante a base mista acqua etanolo ok contiene circa il 18% di etanolo quindi il 18% di alcol ma questo non vuol dire che sia un colorante a base alcol va bene il colorante a base alcol lo vedete perché ha proprio proprio da un punto di vista visivo è completamente diverso cioè è coprente qui io vedo attraverso ok quindi quando vi trovate davanti a dei coloranti e non sapete se sono coloranti a base alcol o coloranti a base acqua due cose dovete guardare uno il prezzo quello non ci piove due l'aspetto proprio visivo del colore ok fermo restando che essendo a base alcol quindi essendo così coprenti ne consumate anche molto meno perché ne basta molto meno per avere un effetto coprente questo vi dicevo è il bianco sopra un pezzo di cioccolato abbiamo fatto la prova prima con quello a base acqua non era possibile non era possibile vi ricordo ancora se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale youtube bi magenta ogni giorno un tutorial nuovo quello di oggi è già stato pubblicato circa un'ora e un quarto fa e vi anticipo già che nel video tutorial di oggi facciamo Vaiana quindi sbizzarritevi signori grazie infinite di tutto vi auguro un buon weekend non ci abbandonate perché abbiamo ho in serbo una sorpresina per voi anche questo weekend direi che noi ci vediamo lunedì baci baci ciao grazie